Prego Bassetti, risponda lei, perché è una questione molto seria questa. Allora, noi tanto dobbiamo dire una cosa, che stiamo vivendo un problema infettivo che ha 5 mesi di vita, per cui anche noi tecnici, anche noi che stiamo da questa parte, non abbiamo delle grossissime evidenze. Quando andiamo a cercare sulle riviste scientifiche, che è l'unico modo che noi abbiamo per valutare attentamente la situazione, noi non ce ne abbiamo, per cui vale molto il parere dell'esperto e l'esperto ti dice quali possono essere i rischi di un'apertura molto ampia e quali possono essere i rischi invece di una continua chiusura. Però poi, una volta che si hanno in mano i parere degli esperti, che saranno univoci o non univoci, la decisione finale spetta al potere politico, cioè come spetta, se decidiamo di fare le vaccinazioni, noi possiamo dire che la vaccinazione obbligatoria porterebbe la copertura al 95%, poi se parla, aspetta la politica, non i tecnici. Quindi la decisione finale dell'apertura non è una decisione che possono prendere i tecnici, i tecnici danno un suggerimento, danno un consiglio, cercano di essere tutti d'accordo su una certa posizione e poi la politica decide. Allora, professore, si fermi un attimo, perché poi mi deve dire cosa... Mi deve dire a cosa ne pensa delle chiusure, delle aperture differenziate, però...